Ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Ilaria Quanti anni hai Ilaria? Ho 17 anni Ilaria studi? Sì, sono una studentessa del liceo artistico Ecco, se quando potremo riviaggiare, dove potrebbe essere il tuo posto ideale? Mi piacerebbe andare in Australia Perché l'Australia? Perché sono un amante degli animali e mi piacerebbe vedere animali nuovi E quali sono per te i piaceri della vita? Per me i piaceri della vita sono sfilare e uscire con gli amici E quali sono un amiche? Per me i piacerebbe parecchi, dove potrete Genadella? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti